In un giorno quasi in evito per fare i matrimoni, che è lunedì, sicuramente noi facciamo il sabato in questa stanza, il lunedì però è anche un giorno significativo, perché è l'inizio delle cose, è la volontà di dare incontro a quelle che sono le proprie scelte, non occorre utilizzarsi le giornate particolari, le festività, i sabati, la volontà di accontrare le cose partono del lunedì, il lunedì sarebbe il rischio di fare quello che si muove, nel proprio futuro, la persona che si vuole accanto. Quindi vi chiedo un gesto semplice e favorevole, per questa volontà di futuro, per parte il lunedì, vi chiedo un applauso per mandagliarmi. Lei, signor Grandi Guido, intende prendere per moglie la più presente, salzuccher Natalia? Sì, ergo. E lei, signorina Salzuccher Natalia? Intende prendere per marito il più presente, signor Grandi Guido? Sì. I signori testimoni hanno udito? Sì. Sì. Il nome della legge, dichiarò che il signor Grandi Guido e la signorina Salzuccher Natalia, sono uniti battemoni. Unito, unito, unito. Grazie. Grazie.